roberto erlis era nato di buona ma non ricca famiglia aveva raggiunto e oltrepassato il trentesimo anno di età in posizione piuttosto umile poi come soleva dire lui sarà arrabbiato aveva abbandonato ubie e sogni e sarà gettato nella vita degli affari con la risolutezza di chi non vuol perdere tempo fece degli affari buoni da prima dovuti ad una bella fortuna e più tardi ad un'astuzia voluta e pratica in complesso egli divenne milionario a forza di affari di cui ognuno gli dava l'impressione di non essere stato abbastanza accorto si capisce che con un maestro talmente incontentabile egli doveva arrivare lungi si sposò possedette dei cavalli una casa sontuosamente arredata e gli parve di aver sciolto il problema della sua vita si sa che la ricchezza non scioglie un problema simile ma la conquista della ricchezza e la soddisfazione del successo sanno riempire la vita più vuota a 40 anni egli aveva sciolto anche il problema di guadagnare sempre di più lavorando di meno aveva un corpo di impiegati che eseguivano i suoi ordini non era per poltroneria che aveva abbandonato l'uso di rivedere lui stesso la sua corrispondenza e la sua contabilità ma la convinzione che l'occuparsi di un dettaglio gli toglieva la visione di tutte le possibilità che per lui saprivano sul mercato in passato egli aveva sognato filosofia e letteratura ora sognava affari ma li realizzava subito non si ha generalmente l'idea come un buon sognatore possa divenire un grande uomo d'affari il rischio resta nel sogno e il sodo viene nella realtà così sognando il rischio lo si vede e prevede meglio e lo si evita erlis non ebbe le dure lezioni della realtà sognò la rovina troppe volte per avere a subirla anche certe abitudini di letterato gli furono utili nel destino si scoprono gli affari come nel vocabolario le idee e poi volendo lungamente attentare al capolavoro ci si abitua certamente alle abitudini della formica e quelle sono molto utili negli affari camminava molto solo le vie come quando correva dietro alle immagini aveva nella bellissima moglie una dolce compagna che amava sentirlo parlare dei suoi affari da buon letterato non gli diceva mai la precisa verità e perciò l'esposizione dei suoi affari era meno noiosa parlandone egli li rivedeva ancora una volta e spesso dopo averli svisati con la moglie correva a correggerli avendoli capiti meglio ma non è del suo successo che voglio parlare volevo soltanto dire che essendo stato molto povero era ora molto ricco e se ne compiaceva non è da credersi che un successo che cambia la vita di una persona dia una gioia di piccola durata questa gioia si rinnova ad ogni tratto per herlis la gioia si rinnovava ogni volta che poteva salutare dall'alto in basso delle persone alle quali in passato aveva ambito il saluto ogni qual volta si vedeva capitare quale petente umile un amico che in passato sarà creduto al suo uguale o superiore herlis faceva abbondanti carità senza affatto ricercare la pubblicità era un modo di sentire meglio la sua riuscita prestava dei denari ai suoi vecchi amici poveri senza domandare alcuna ricevuta il suo gesto generoso sottolineava ed accentuava il suo successo aveva un bambino di cui si occupava poco ma chiamava molto mutatosi in un uomo d'affari gli era rimasto l'egotismo del letterato non aveva tempo per altri e non poteva derivargene un rimprovero perché era buono con tutti aveva elaborato delle idee di libertà per sua moglie e per suo figlio per le quali era esonerato di intervenire troppo intimamente nel loro destino egli vedeva il bambino una volta al giorno non tollerava che giocasse accanto a lui perché le sue idee erano turbate dai rumori puerili incomposti amava il figlio augurandogli tutto il bene possibile facendolo accuratamente sorvegliare e curare e distruire dagli altri herlis aveva conservato un'altra abitudine dell'antico letterato camminava molto le vie il suo pensiero amava il ritmo del passo così era spento e trattenuto e meglio realizzato un giorno in corso guardava distrettamente intorno a sé e calcolava come il prezzo di certi imballaggi in certi istanti modificavano il prezzo di una merce egli ritirava certe merci in vagone le faceva imballare sul posto e le riesportava ora l'imballaggio era aumentato ma ciò non poteva avere altra conseguenza che di spingerlo alle ricerche di un utile maggiore ed egli sorrideva vagamente al suo utile e al suo successo tu a trieste gli disse qualcuno che gli aveva forse guardato ma non ravvisato lo riconobbe il vecchio miller non lo aveva visto forse da dieci anni eppure erano stati molto intimi molti anni prima quando herlis era un ragazzo e il vecchio che ora doveva contare oltre 70 anni un uomo molto maturo miller era il padre di un cognato di herlis la sorella di herlis era morta giovanissima di parto lasciando una bambina che pochi mesi appresso era morta anch'essa di difterite il vedovo abbandonò la città si sposò un'altra volta e così avvenne un totale distacco fra le due famiglie quando i genitori di herlis erano ancora vivi anche il vecchio miller doveva aver passato parecchi anni lontano da trieste in casa del figliuolo un po' bizzarro ed esigente come herlis aveva appreso da certi amici comuni il vecchio non aveva saputo andare d'accordo con la nuora ed era ritornato a trieste dove viveva in una pensione non grande ma sufficiente ai suoi bisogni i miller erano stati importanti nella vita giovanile di herlis quel vecchio da uomo pratico lo aveva qualche volta stimolato ad abbandonare i suoi sogni di letteratura e a dedicarsi alla vita pratica anche il giovane cognato lo aveva spinto a maggiore serietà nella vita egli aveva tollerato le loro istruzioni che allora credeva sbagliate sapendo che lo amavano da canto suo egli li aveva assistiti fraternamente nelle loro tante disgrazie l'ultima la morte della bambina aveva fatto un'enorme impressione ad herlis e l'aveva descritta e analizzata più volte in certi abbozzi di novelle che non aveva mai terminate e che giacevano tuttavia indistrutte nel suo cassetto la cui esistenza era ignorata persino dalla moglie fino allora non si era conosciuto ancora il medicinale potente che ormai rende tanto meno pericolosa la difterite e non si era ancora trovato il modo di rendere possibile la respirazione dell'ammalato senza imprendere quella grave operazione della tracheotomia la bambina mezza soffocata aveva dovuto attendere per delle ore l'arrivo del medico il vecchio Miller correva per la città urlando come un pazzo otteneva la promessa che il medico sarebbe venuto subito e ritornava a casa nella speranza di trovare che la bambina si sarebbe riavuta da sé non sopportava di vederla in quello stato e ritornava a destare qualche altro medico finalmente alle due di notte l'operazione fu fatta ed Erli stenne in braccio la bambina mentre le aprivano il collo subito la piccola condannata si riebbe e sorrisse allo zio aveva sei anni e avendo vissuto sempre in compagnia degli adulti che per lei vivevano era un po' chiacchierina e donnicciola veramente precoce ora non poteva parlare essendo stata resa afona dall'operazione e quella sofferenza muta e composta non fu più dimenticata da Erlis morì alla mattina con una smorfia che poteva aver voluto essere un sorriso o un pianto poi Erlis aveva fatta buona compagnia al vecchio e al cognato e aveva pianto con loro la vita era passata su tutto ciò ed ormai fra lui e i Miller non vera più alcun punto di contatto tuttavia trovandosi dinanzi al vecchio Erlis provò una lieve emozione non ricordava molto il vecchio ma vedendolo ricordava se stesso come era stato in altra epoca ricordava la propria gioventù il vecchio parve commosso di rivederlo e ad Erlis riuscì facile di avere un aspetto simile si strinsero lungamente la mano e si guardarono negli occhi l'età aveva veramente imperversato su quell'organismo altre volte tanto solido era piccolo e straordinariamente esile mentre anni prima era stato piuttosto forte aveva il viso dalla pelle asciutta e solcata e gli occhi un po' troppo umidi la grande età è una malattia che provoca più di tutte la nostra compassione ed Erlis dimenticò la questione che tanto lo preoccupava del rapporto fra la sua merce e l'imballaggio camminarono uno accanto all'altro il vecchio raccontava di aver avuto buone notizie dal figliuolo e si informava ti sei sposato? quanti bambini hai? e poi tutto a un tratto un po' sardonico della letteratura? Erlis sorrise la letteratura non gli doleva più raccontò con modestia voluta dei suoi affari lagnandosi di avere troppo da fare la sua firma non portava il suo nome ed egli lo disse al vecchio che essendo stato commerciante ne capì subito l'importanza e diede un balzo tu sei il proprietario di quella firma l'ammirazione era evidente ed Erlis l'assaporò così ritrova facilmente l'antico affetto e camminarono lungamente insieme il vecchio si lagnò della nuora lo aveva allontanato dal suo figliuolo viveva ora solo della piccola pensione che i suoi antichi principali gli avevano assegnata il figliuolo lo aiutava abbondantemente si era di festa ma tuttavia Erlis fu fermato sulla via da amici d'affari li congedava dopo aver risposto con sicurezza alle domande che gli erano rivolte il vecchio evidentemente lo ammirava sei divenuto un vero uomo tu esclamò se tuo padre ti vedesse come se ne compiacerebbe anche Erlis sembrò credere che il defunto suo padre si sarebbe compiaciuto nello scoprire nel figliuolo un tale uomo d'affari veramente negli anni il vecchio Erlis si era lasciato convincere dalle ambizioni di Roberto ed aveva sperato di vederlo conquistarsi un grande nome nelle belle lettere ma da quel buon morto che era non protestava e Miller certo parlava in buona fede e poi non vera dubbio che al vecchio Erlis sarebbe bastato di sentire che Roberto era un uomo forte la riuscita era l'importante e in qualunque campo sia avevano così parlato di tutto quello che li legava e ciò bastava per gli annodare i nodi che la stessa vita aveva annodati e sciolti il vecchio gli dava del tuo e ritornato alle abitudini poerili egli continuava a dare del lei al vecchio amico nell'uno e nell'altro si accorgeva della stranezza del costume eppure ambedue sapevano che il forte fra loro era il solo Erlis Miller era stato un buon impiegato e ora percepiva una rendita che come diceva lui gli bastava aveva lavorato tutta la sua vita diretto e sfruttato dagli altri e solo nei più tardi anni aveva rimpianto d'essere stato troppo debole a inerte stavano per dividersi quando Erlis ebbe un'idea perché non verrebbe a pranzo da me e vecchio esitò aspettavano a pranzo dalla cosiddetta sua padrona quella cioè che gli dava affitto la stanza e gli faceva da pranzo poi accettò Erlis era molto insistente e al vecchio venne la curiosità di conoscere quella casa del giovane suo amico che gli considerava quale un milionario si andò al centro della città Erlis amava di non perdere del tempo per recarsi ai suoi affari che si andò al centro della città è un po' di più che si andò al centro della città è un po' di più Grazie a tutti